La filosofia della Pagani è quella di fare delle vetture uniche, dei vestiti su misura. Abbiamo dei clienti che ci chiedono ancora di più delle vetture one-off, degli oggetti dove loro possano esprimere la loro creatività. La Wireland Pearl è un tipico esempio. Questo cliente è un cliente molto raffinato e voleva che la macchina rispettasse un po' tutta la filosofia di eleganza che ha una Wireland, però aggiungendo degli elementi sia stilistici che anche tecnici e che influiscono sulle performance in un modo molto sobrio e molto discreto. Questa macchina è stata anche costruita con lo stato dell'arte e quelli che sono gli ultimi materiali utilizzati per esempio per la Wireland C. e ad ogni richiesta fatta e condivisa con il cliente ha seguito una ricerca stilistica e logicamente un lavoro scientifico tecnico per validare queste nuove soluzioni. Grazie a tutti.